di rispettare i tempi, di avere un dibattito rapido, però gli argomenti e gli interventi erano tali che ci hanno portato ovviamente a sforare un po'. Però, visto che abbiamo il piacere, oltre che l'onore, di avere il nostro Ministro di riferimento, qua abbiamo ascoltato prima il Ministro Sacconi, ma essendo operatori turistici il Ministro Brambilla è chiaramente il nostro punto di riferimento, e idealmente con lei vorremmo approfittare della vostra pazienza anche, per chiudere sostanzialmente quello che è il dibattito nato nel primo panel, perché era anche lì dove l'intervento del Ministro era particolarmente apprezzato e gradito, e credo che alcuni spunti di riflessione stamattina siano emersi, e vorrei riproporli, anche considerato i tempi, ma approfittando dalla pazienza del Ministro e della disponibilità, due o tre temi chiave che probabilmente riassumono un po' quelle tematiche che stamattina sono emerse. E quindi Michela, se posso, vorrei che tu condividessi con noi un po' la tua visione su questi punti. Il primo che è emerso a più riprese nel dibattito sulla governance è proprio quello relativo alla governance. Diciamo che c'è ancora molta confusione che sta tramutandosi in frustrazione, se posso dirla così, perché sostanzialmente non è ancora chiaro a livello istituzionale, e questo ce lo testimoniavano anche i nostri amici internazionali, diciamo banalmente chi fa che cosa. Abbiamo tutti accolto come un grande segnale di interesse da parte di questo Governo l'istituzione del Ministero del Turismo. Ci sembra, se posso esprimere in modo molto diretto, che però spesso sia un'arma spuntata, nel senso che sappiamo che la competenza delle Regioni è ancora sostanzialmente quasi esclusiva a tutti gli effetti, che non sia molto facile probabilmente il dialogo con gli altri Ministeri. E quindi vorremmo capire un po' qual è la tua visione, perché il Ministero del Turismo l'hanno affidato a te e noi guardiamo a te per queste risposte. Secondo tema, e poi ti lascerei veramente il campo, il secondo tema è quello relativo proprio a una conseguenza della governance, una volta stabilita, è che noi riteniamo ed è emerso fortemente stamattina che le politiche del turismo non si esauriscono con la promozione. Promozione è cosa giusta, fondamentale, probabilmente potrebbe essere fatta in modo molto più efficiente, considerando che abbiamo molte risorse a nostra disposizione, sono un po' sparpagliate, quindi tendono a essere inefficaci, ma a noi interessa poi capire come ci si raccorda con tutte le altre politiche del Paese e soprattutto con la dimensione di servizio che potrebbe far sì che i clienti nazionali, internazionali, potessero trovare la nostra offerta conveniente ed attrattiva. Ultimo, diciamo una parte propositiva, abbiamo toccato alcuni progetti che ci sentiamo di poter rappresentare come Federturismo Confindustria, insieme anche alle altre parti sociali ovviamente, ma che vorremmo quasi quasi offrire, seguendo un po' anche la sollecitazione del dottor Cotton, da parte delle imprese al Ministero, per cercare di sviluppare un po' di positività e dare maggiore stabilità e potenziale di sviluppo al nostro settore. In particolare, quello che abbiamo sentito illustrato sul modello spagnolo, vale a dire il modello inserso, quindi diciamo un turismo allargato a certe fasce di età, in certi periodi diciamo meno utilizzati alla stagionalità attuale, con un contributo da parte delle istituzioni ma che viene più che recuperato dal punto di vista dei risparmi sulla disoccupazione e due concentrare, centralizzare lo sforzo promozionale, perché oggi crediamo che non si sfruttino nemmeno banalmente le economie di scala con tutto questo potenziale di risorse a favore della promozione. Scusami, ti ho messo sul tavolo un po' tutto, ma insomma siamo qui molto attenti ad ascoltarti per capire la tua posizione. Grazie mille. Grazie Daniel, io vi faccio ritardare il pranzo, cercherò di non farvelo ritardare troppo. Innanzitutto però Daniel, prima di rispondere alle domande che mi hai posto, permettimi di esprimere a te, al tuo consiglio direttivo, a Confindustria, a Emma, il mio più sentito apprezzamento per l'organizzazione di questo evento odierno. Perché per arrivare a fare quella battaglia culturale che abbiamo intrapreso, che ha portato alla nascita del Ministero del Turismo, è che giorno dopo giorno continuiamo a portare avanti per fare sì che quello che un po' i relatori che ho sentito prima di me hanno evidenziato, cioè una considerazione nei confronti di questa importante attività produttiva, non per quelle che sono le sue potenzialità, non per il fatto che rappresenta un asset strategico, ma così come qualcosa di accessorio, come è stato considerato per le politiche economiche che si sono susseguite da troppi anni a questa parte. Noi abbiamo iniziato questo cambiamento e sappiamo bene che questi cambiamenti non avvengono in pochi mesi, sono processi su cui ci siamo messi a lavorare tutti insieme. E allora, sotto questo profilo, il fatto che Confindustria, questa importante confederazione di imprese, abbia oggi organizzato questo forum con queste tre sessioni che toccano tre punti così importanti per il settore, bene, va assolutamente in questa direzione. Va in questa direzione e quindi io davvero non posso che complimentarvi e ringraziarvi per quanto avete voluto organizzare. Certo che questo sarà solo un primo passo, come già ci siamo detti in passato, per una continua e maggiore attenzione sul settore. E una seconda cosa volevo annunciarvi prima di passare a rispondere alle domande che tu mi hai posto, a commento di quanto è stato detto poi nella sessione che ho avuto il piacere di ascoltare. Questa mattina in Consiglio dei Ministri noi abbiamo dato il via a decreti presidenziali per il riordino degli istituti professionali. Istituti professionali tra i quali ovviamente sapete fa parte anche la materia del turismo e grazie al prezioso lavoro di questo comitato di cui ha parlato Elena David, che è stato istituito presso il Ministero del Turismo per mia volontà.